Baudo, perché gli piaceva molto comunicare la sua gioia, il suo amore per il territorio e quindi gli piaceva stare in Emilia, però la cosa vera è che Angelo amava fare le cose e nel 5 settembre ho voluto riportare sui social una cosa che lui diceva sempre e l'ha detta pure a me quando ho cominciato a fare il vice sindaco fate le cose, non fa niente che sbagliate, ma fate le cose e la politica spesso si racconta, racconta di cose, parla tanto, parla di cose da fare ma spesso non le fa la misura di Angelo è che parlava di cose che faceva e ne faceva molte di più di quelle che raccontava e forse il ricordo più bello che di Angelo si può riportare alla memoria di tutti